un tale deve andare a lavorare fuori per tre anni su una piattaforma petrolifera in mezzo all'oceano per cui per tre anni non vedrà la sua bella giovane moglie prima di partire le dice senti cara non ci vedremo per tre anni tu sarai sola incontrerai gente ed avrai delle tentazioni sei ancora giovane bella e sarà proprio dura resistere ma io saprò capire l'unica cosa che ti chiedo è di mettere un cucchiaino di farina in questo barattolo se ti capiterà di incontrare un altro così saprò capire cosa è successo baci e abbracci e parte dopo tre anni torna dalla sua mogliettina la stringe forte poi le chiede il barattolo vede che c'è soltanto un pochino di farina sul fondo oh cara ti perdono perché comunque mi sento contento che ti sei saputa trattenere vedo che la farina è veramente poca certo caro quella che manca ci ho fatto il pane per i miei genitori e tutti i miei fratelli per tutto questo tempo grazie a tutti grazie a tutti